Buonasera da Marco Ferrante, eccoci qua per un'altra puntata di Marco Ferrante TV. Oggi è martedì 21 giugno 2016, la cosiddetta notte per ore di esami, la notte in cui tantissimi di voi stanno per affrontare queste prove conclusive del quinquennio delle scuole superiori tra ansie, preoccupazioni, tensioni, domande, dubbi, quesiti. Quindi, innanzitutto, state tranquilli, godetevi questa notte, ma soprattutto godetevi questi esami che sicuramente saranno i ricordi più belli della vostra vita, a prescindere dal settore finale che verrà. Ancora oggi vi ricordo i miei esami all'Inteoplastico Palmieri di Lecce 2003, di cui ricordo ancora il banco di scuola. In ogni caso vi auguro di superare tantissimi esami in futuro, soltanto all'interno della vita scolastica, soprattutto per tutti coloro che affrontano l'università, ma anche all'interno dell'ambito professionale e lavorativo. Ma intanto, in queste ore, sta svolgendo a Napoli il concerto di Gigi D'Alessio, che sta concludendo davanti ai suoi fans, partenovei, il tour Mala Terra, con la sua voce, la sua calda voce, con le sue sensazioni, con il suo pathos, con le sue emozioni, che racconterà sicuramente con la sua campagna, Anna Tatangelo, la muchacha sexy. E a proposito di esami che non finiscono mai, riuscirà il direttore artistico di Renorba, Alan Palmieri, a resistere dinanzi a tutta questa energia vitale nel prossimo Battiti Live 2016. E intanto ci prepariamo al saluto di noturità, appassionandoci di fronte a cotanta poesia italiana. Alziamo il volume! E con le note partenopè di Gigi D'Alessio, io vi saluto e vi auguro una grande notte prima degli esami. Questo compreso. Ciao! Ciao!